Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un video su quelli che sono stati gli aggiornamenti fatti alla mia squadra e infatti ci sono stati due innesti abbastanza importanti sui quali devo andare a spendere due paroline e in più ho aggiornato in parte quelle che sono le tattiche del 4-4-2, soprattutto quando ho dovuto affrontare determinate situazioni del gioco per cui ci andiamo a vedere questo e con al solito, con un classico cambio di scena repentino, eccoci qui ci ritroviamo immediatamente sulla schermata della squadra, vedete che si è colorata un po' più di bianco quindi potete iniziare già magari a farvi qualche ideuzza su quella che è un po' la situazione ma senza spoilerare troppo, partiamo, ne andiamo in ordine e vediamo che tra i pali si conferma il buon Allison il quale, devo dirvi la verità, ho letto e sentito tanti pareri abbastanza discordanti c'è chi dice che non fa una parata, c'è chi dice che è veramente terrificante a me, se vi devo dire la verità, il suo lo fa certo ha dei momenti di blackout ma credo che vuoi o non vuoi, gioco forza, capiti un po' a tutti i portieri quindi è inevitabile, visto che mi serve per dare un po' di link qua e di là al momento non ho trovato nulla di meglio anche se ho visto che in giro ci sono numerosi portieri icon molto validi che tengo sott'occhio e che qualora raggiungo i crediti poi sto pensando di andare ad inserire nella squadra terzino destro, anche qui un'ennesima conferma, il buon Semedo anzi, vi dico che probabilmente questo qui lo upgraderò alla versione one to watch perché credo che un if prima o poi lo prenda e lo prenderà di conseguenza, questo qui, ragazzi, veramente tanta roba ormai ci gioco da parecchio, quindi posso darvi grandi feedback al riguardo vi posso dire che piedi buoni, ottime diagonali difensive in game è molto più fisico rispetto a quello che potrebbe sembrare quindi tanta roba il buon Nelson difensore centrale che anche qui è rimasto il buon Virgil van Dijk anche lui ormai feedback stra positivi sembra di avere, raga, un secondo portiere quando giocate con lui fanno quantità di interventi automatici e di autoblock veramente sensazionali per cui non mi sento di andarlo a sostituire anche se a livello di prezzo purtroppo è calato ma quello vuoi o non vuoi, tutti quanti finiremo col perdere i crediti quindi ci sta poco da fare e tanti parlano di Geocomets questo fa per me un altro sport almeno che non si va a inserire poi in un discorso di Icon per me questo qui rimane uno step avanti a tutti quanti e suo compagno di reparto si conferma il buon Varane anche qui una conferma anche qui giocatore che per me dopo Van Dijk per quanto riguarda le carte oro rimane il migliore in assoluto fisicità e velocità abbinate anche ad una buona reattività nel temporeggiare questo qui è veramente veramente tanta roba e per concludere la difesa abbiamo il buon Ferlan Mendy anche qui niente da dire anche se non nascondo che visto il prezzo e visto quanto l'ho pagato io qualora dovesse uscire un terzino che mi linca l'esterno che dopo andremo a vedere e comunque mi dà la possibilità di utilizzare anche Varane si potrebbe anche andare a sostituire per fare un po' di profit però al momento tra i terzini oro ovvero quindi no carte speciali, no icon è assolutamente per me il migliore in assoluto passiamo a quelle che sono le due new entry che di conseguenza capite che si sono andate a piazzare in quella che è la fascia del centro campo quindi il primo che vi vado a mostrare è una carta che probabilmente rimarrà qui per tanto tempo e si tratta di Patrizio Vieira veramente quest'anno ha pagato 3.150.000 non voglio vedere quanto sta per paura ma vi posso dire che questo qua fa una differenza incredibile recupera palla, imposta bene coi piedi davanti pure quando si ricapita a fare qualche tiro mi è capitato che ha finalizzato veramente crediti ben investiti direte grazie al cazzo 3.150.000 sì grazie al cazzo però comunque si poteva magari pensare di poter tamponare con un Pogba eccetera ma no, stovierà veramente qualcosa di atroce la sua presenza in campo la sentite veramente tanto e quest'anno le statistiche difensive contribuiscono tanto a quello che l'apporto che Mediani vi danno alla manovra per cui avere una carta di questo tipo veramente vi da una marcia in più soprattutto a livello competitivo per quando andate magari ad affrontare tornei eccetera eccetera e a completare il reparto vi aspettavate di ritrovare Blank ma ci ritroviamo invece il buon Lothar Mataus o Mateus per i francofoni pagato 1.760 anche qui stiamo parlando di un giocatore che mi è veramente sorpreso perché non è altro che praticamente un canteo un po' più alto con piedi veramente veramente top praticamente tutte le stats sopra le 80 Gullit Gang quindi 6 gol e 17 assist in 36 partite per quello che fa appunto il Ciccino e il 4-4-2 è veramente tanta tanta roba a mio modesto modo di vedere e sicuramente Lothar a meno che appunto un giorno non riuscirò a mettere il buon Gullit rimarrà anche lui qui per parecchio tempo l'unico problema quest'anno della Mediana è che non il problema che è dettato dai giocatori ma purtroppo dal fatto che il gioco è costruito in maniera tale che i mediani rimangano totalmente passivi quindi dovete switchare freneticamente per portarli in difesa ma questo qui con le statistiche che ha guardate qui che statistiche difensive che ha rispetto a tutti quelli che sono gli altri centrocampisti vari Blanc eccetera eccetera si fa sentire veramente tanto in mezzo al campo un altro che potrei vorrei provare è il buon Zidane ma questo è un altro discorso aspetto che magari il buon Dugno o il Flo prova visto che lo voleva prendere e poi magari mi dia un feedback per quanto riguarda i due esterni riconfermato il buon Neymar anche se novità dell'ultimo secondo è in progetto un cambio ossia uno switch tra Neymar e Mbappé con Neymar che va davanti e Mbappé che va sull'esterno quindi spoilerata anche la conferma di Mbappé potete vedere il mio Neymar non scambiabile trovato a casissimo in un pacchetto per le 30 vittorie nei draft dall'altro lato stesso pacchetto Mbappé non scambiabile un pacchetto allucinante Mbappé che sull'esterno fa praticamente quello che vuole con gli strappi lo speed boost classico mio veramente se ne va via che è una bellezza e per completare quindi abbiamo detto Mbappé anche qui 243 partite 299 gol e 181 assist stiamo parlando veramente di un giocatore che è atroce ed allucinante fa veramente una differenza incredibile quest'anno così come una differenza incredibile la fa questo signore qui ragazzi Cristiano Ronaldo carta che per me rimarrà qui fino ai toti se non anche dopo 243 partite 350 gol e 141 assist penso che insomma si è meritato tutta la riconferma dunque andate a svelare quella che è la squadra intanto vedete che ho sculato pure sto sonno da non mi ricordo che pacchetto marcio Werner e Florenzi dai primi pick la VL quindi non male andiamo a vedere quelle che sono state le modifiche alle tattiche del 4-4-2 eccole qui vedete che ho abbassato la profondità ossia non ho più 5-3 ma 5-2 in attacco ho alzato sia l'ampiezza che i giocatori in aria ridotto ulteriormente angoli e punizioni e cambiato però lo stile di attacco e messo palla lunga perché messo palla lunga? palla lunga mi permette di poter avere più libertà sugli esterni soprattutto quando il gameplay è un po' più rallentato i giocatori tendono comunque a lanciarsi in avanti e dunque andare in qualche modo a superare quella condizione di marciume leggendario che si viene a creare quando il gameplay vuole puzza proprio di tonfo di melma con palla lunga mi sono trovato lievemente meglio anche in amichevole soprattutto poi per quanto riguarda invece il resto sto comunque continuando a utilizzare quelle che sono le tattiche che vi ho fatto vedere l'altra volta si è equilibrata 5-3 equilibrata 5-4-1-1 e niente quindi raga per quanto riguarda l'aggiornamento alla squadra è questo per quanto riguarda l'aggiornamento alle tattiche ancora una volta è questo a me non mi resta altro che salutarvi augurarvi un buon proseguimento ci vediamo come ogni giorno raga lo sapete il live su twitch dalle 10 alle 16 è nulla io vi auguro appunto di fare cose buone è nulla ciao ciao ragazzi ciao